Sulla incompiuta per eccellenza delle marche, il completamento della Fano Grossetto, c'è uno sprazzo di luce in fondo al tunnel, ovviamente quello della guinza. Il paradosso è che stiamo collegando le marche con la Cina e non riusciamo a farlo con l'Umbria, ma ora si intravede una luce in fondo al tunnel. Ha esordito sabato mattina il presidente della regione Luca Ceriscioli, reduce dagli incontri a Roma sulla via della Seta. Hanno fatto il punto sull'incompiuta all'imbocco della galleria, accogliendo così il grido di dolore che gli amministratori marchigiani di confine stanno urlando da diversi anni. Dopo uno stop micidiale di qualche mese fa si è trovata una soluzione che permette di aprire a senso unico alternato questa galleria, poterla utilizzare, avviare il percorso di realizzazione delle circonvaluazioni di mercatello e fare in modo che si ridia di nuovo vita a un investimento fatto tanti anni fa, un investimento importante di centinaia di milioni di euro che possa servire a un territorio bellissimo come sono le zone interne della provincia di Pesaro Urbino con un collegamento verso l'Umbria che ne rafforza la furibilità e quindi le opportunità economiche di sviluppo del territorio. Lasciare tanti denari inutilizzati è un peccato mortale, caparbiamente trovare una strada per utilizzarli è un grande risultato. Si prospetta dunque una soluzione tecnica dell'ANAS per un'apertura a senso unico alternato della galleria, poi si lavorerà sulla seconda canna e si avvierà la realizzazione della circonvaluazione. Tra i presenti l'assessore regionale Loretta Bravi, il consigliere Andrea Biancani e il presidente della provincia di Pesaro Urbino Giuseppe Paolini. La Fano Grosseto, ha detto Paolini, è la nostra TAV, vogliamo realizzarla, senza il commercio dei nostri paesi muore. Occorrerebbe premiare i commercianti come eroi per continuare a lavorare dove non passa gente. La cosa peggiore, ha aggiunto inoltre Ceriscioli, sarebbe lasciare che i 250 milioni di euro dei contribuenti italiani già spesi negli anni fossero destinati a un'altra incompiuta. Non parliamo di ultimarla domani, ma abbiamo riavviato un percorso che da spreco diventerà un utile, investimento territoriale e progetti ed investimenti.